Piove sul bagnato in casa della vecchia signora, quest'ultima settimana di novembre verrà ricordato come la settimana nera della Juventus, martedì 23 il pesante 4-0 subito in casa del Chelsea per i gironi di Champions League. Venerdì 26 lo scoppio dello scandalo plus Valenze è falso in bilancio, ora negli anticipi del sabato validi tra la quattordicesima giornata di Serie A, la sconfitta interna contro l'Atalanta, una battuta d'arresto pesante in chiave corsa al quarto posto, un successo che al contrario consente alla Dea di consolidare la quarta posizione che porta in Champions con 28 punti. All'Allianz Stadium decide il match e un gran gol di Zappata nel primo tempo, il colombiano segna da grande attaccante e regala tre punti pesantissimi alla squadra di Gasperini. L'Atalanta consolida la quarta piazza, l'Inter la terza ed accorcia sulle due battistrada. I nerazzurri di Simoninzaghi vincono a Venezia portandosi a un solo punto dal Milan e dal Napoli, in attesa delle partite della domenica. Ricordiamo che i rossoneri riceveranno il Sassuolo mentre i partenopei ospiteranno la Lazio del grande ex Maurizio Sarri.